ho cercato il nuovo Braille Grom dalla sfida delle 9 vittorie infatti ho fatto 9 vittorie ma ho fatto 4 sconfitte a queste due tentativi che non mi sono servite a nulla quindi in sostanza ho già fatto qualche partita per cui il mio pensiero non è fortissimo ma non è neanche scarso vi voglio dare un 7 come voto nei prossimi giorni vedrete un po' di partita con lui e niente noi ci vediamo al prossimo shorts